Musica 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 Ragazzi purtroppo siamo arrivati alla fine Ci dispiace non li strappate i capelli Ringraziamo i ragazzi di Onda Burto Che anche quest'anno ci ha invitato Qui in questo 13 agosto Musica 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 Condiamo l'occasione per ringraziare Tutti i nostri tecnici che ci hanno aiutato Musica Volevamo dirvi che c'è un banchetto Lì vicino al mixer Dove vendiamo un po' di nostri prodotti Così troverete a dele Comprate una cosa anche da un euro Perché sennò si incazza dopo il casino Niente cosa dire Noi ci siamo divertiti Spero anche voi Musica 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 Vi salutiamo con questo bravo dal titolo Il vicino Come Siamo Grazie.